Sapevate che la Corte Reale di Giordania ha annunciato una lieta novella che rallegrerà non solo il regno ma tutti noi amanti delle storie di principi e principesse? Chi è la principessa che sta per diventare madre e quale impatto avrà questa notizia sulle dinamiche della famiglia reale? La principessa Ragioa di Giordania è rapidamente diventata un'icona di eleganza e fascino a livello globale. La sua storia con il principe ereditario Hussein è una delle più seguite e ammirate, ricca di romanticismo e di attenzione mediatica. Sposati in una cerimonia sontuosa e celebrata a maggio 2023, il loro legame ha catturato l'immaginazione di molti, diventando un simbolo di amore moderno all'interno della nobiltà mondiale. L'annuncio della gravidanza di Rajwa, meno di un anno dopo il loro matrimonio, ha aggiunto un tocco di dolcezza alla loro narrativa già fiabesca. La corte reale Hashemita ha condiviso la notizia attraverso una nota ufficiale, esprimendo grande gioia e anticipazione per l'arrivo del nuovo erede. Questo evento non solo rafforza il legame tra Rajwa e Hussein, ma rinnova anche l'interesse e l'affetto del pubblico verso la famiglia reale. Il matrimonio di Rajwa e Hussein è stato un evento mondiale, segnato da grande fasto e partecipazione internazionale. L'evento ha unito tradizione e modernità, riflettendo l'immagine progressista che la Giordania ha cercato di proiettare. Sotto la guida del re Abdullah II e della regina Rania, noti per il loro impegno verso la modernizzazione del paese e l'attenzione alle questioni sociali. Con l'arrivo del loro primo figlio, Rajwa e Hussein si apprestano a entrare in una nuova fase della loro vita. Cosa ne pensate di questa dolce attesa reale? Condividete i vostri pensieri nei commenti qui sotto e fateci sapere quale altro evento reale vi piacerebbe vedere coperto sul nostro canale. La regina Rania e il re Abdullah II esprimono entusiasmo e orgoglio nel diventare nonni, un sentimento che risuona profondamente con il popolo giordano e con gli osservatori internazionali. Questa notizia non solo celebra la crescita della loro famiglia, ma simboleggia anche la continuità e il futuro della monarchia giordana. L'intera Giordania e il mondo attendono con impazienza l'estate, quando il piccolo principe o principessa verrà al mondo, segnando l'inizio di un nuovo capitolo nella storia della famiglia reale Hashemita. Non perderti nemmeno un momento. Abbonati ora per accedere subito a contenuti esclusivi che ti lasceranno a bocca aperta. Clicca e unisciti alla nostra community. Questa storia, ricca di speranza e di nuovi inizi, continua a ispirare e affascinare, consolidando il ruolo di Rajua e Hussein come figure centrali nel panorama delle monarchie contemporanee. Questo è tutto per oggi. Grazie per averci seguito. Continuate a riflettere e a cercare la vostra verità. Alla prossima! Grazie a tutti!